Ok, ora ti sei registrato con successo. Cominciamo a cercare qualche HDRI e backplate con la funzione di ricerca. Ora digiterò alcune parole chiave qui e mi cercherà qualsiasi backplate o HDRI con lo stesso tag nei metadati. E ora mi trovo davanti a una serie di backplate in cui posso selezionare diverse altezze della camera per ognuno di questi backplate. Adesso, sotto i tuoi backplate, troverai di solito una serie di HDRI con diversi scenari di luce. Ora lascia che ti presenti una delle funzioni più interessanti di CGI Backgrounds, cioè lo strumento AI Visual Search per migliorare la nostra ricerca. Facciamo subito un esempio. Questa volta userò l'icona a destra, che attiverà la ricerca visiva con AI. Posso sia trascinare un'immagine o inserirla tramite link. Nel mio caso, userò un JPEG che ho nella mia libreria. Lo caricherò lì. E poi cercherò backplate simili. Questo utilizzerà algoritmi avanzati per rilevare pattern simili e confrontarli con la libreria CGI B. In pochi secondi, posso velocemente sfogliare tutti i diversi backplate. Posso anche passare facilmente a una ricerca di HDRI, che mi darà l'HDRI corrispondente o simile. Torno indietro alla ricerca di backplate e cerco qualcosa con un cielo un po' più nuvoloso. Ora, quando trovo qualcosa che mi piace, posso passare con il mouse sopra la miniatura e usare la funzione Trova immagini simili. Questo la caricherà automaticamente nella ricerca, consentendomi di restringere ulteriormente i risultati e risparmiare molto tempo.